Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Due indizi e mezzo, quasi una prova. Stiamo parlando, naturalmente l'avrete capito, della Lucchese. Che sia un momentaccio per la Lucchese lo confermano le ultime tre partite, Pontedera, Spalli in casa e Carrara. Nonostante la vittoria del Portelisa sugli Emiliani, le prestazioni di Rossoneri hanno avuto infatti un minimo comune denominatore. Difficoltà nel proporre gioco e uno sfilacciamento tattico preoccupante. Vero che a Pontedera, così come domenica scorsa a Carrara, la squadra di Galderisi è rimasta in dieci già nel primo tempo, ma questo casomai evidenzia le difficoltà in fase di chiusura e di non possesso. De Geri e Calistri hanno pagato con rosso la propria irruenza, ma anche i problemi di equilibrio generale. Ed anche in occasione del 2-0 sulla Spall, la Lucchese ha proposto poco, sfruttando al meglio le poche, anzi uniche, occasioni avute. Cosa stia succedendo? Se lo è chiesto anche il direttore generale Galli, che ha richiamato la squadra. E lo stesso Galderisi dovrà trovare al più presto soluzioni valide per tamponare la situazione, anche in vista della difficile gara di sabato prossimo, ore 14.30 al Portelisa, contro il temibile L'Aquila. Il Nanu dovrà fare a meno degli squalificati Raicevic e Calistri e potrebbe riportare specie centrale, anche se non si può escludere il debutto del brasiliano Cazè. La speranza è quella di riavere Matteo Nolè, troppo importante il rientro del capitano, che ce la sta mettendo tutta, anche per ritrovare giusti equilibri difensivi. In mediana potrebbe toccare a Pizza giocare al fianco di Mingazzini, vista la prova deludente di De Geri al Marmi. Ed infine in attacco rientrerà Biagio Pagano. Si spera che l'ex catanzarese possa dare vivacità e spunti decisivi ad un reparto parso piuttosto spento e privo di idee. L'arbitro di Lucchese L'Aquila, sabato 14.30 al Portelisa, sarà Paolo Formato di Benevento, assistenti Marco Scatragli e Marco Pancioni, entrambi della sezione di Arezzo. Gli squalificati del giudice sportivo Lega Pro Girone B, due giornate all'allenatore Piero Braglia del Pisa. Solo una munizione invece per l'allenatore della Lucchese Galderisi, espulso domenica scorsa nel finale della partita di Carrara. Inoltre, per quanto riguarda i calciatori, una giornata a Calistri della Lucchese, Celiento Pistoiese, Parodi Ancona, Berra Carrarese, Vettori Pontedera, Sini Pisa, Coccolo e Urso del Prato, Matteassi Propiacenza, Andreoni della Reggiana. Le ammende, 1.500 euro all'Aquila, 500 euro a Reggiana e Prato, 350 al Teramo. Di fatto, ha preso il posto di un altro ex bianconero, Massimo Gazzoli, passato nel frattempo al Prato. Stiamo parlando di Jacopo Furlan, ex portiere del Viareggio, che proprio in queste ore ha prodato a Lumezzane per difendere la porta dei Lombardi. Lega Pro Girone A, 22 anni, di scuola Empoli, dopo 8 mesi di inattività, Furlan si è allenato a Camaiore ed ora è pronto a rimettersi in gioco. Ancora una notizia di calcio, prima di passare al ciclismo. Domani, mercoledì alle ore 15, si gioca nei quarti di finale della Coppa Toscana di prima categoria, tra le gare in programma, che è la sfida tutta lucchese, tra Villa Basilica e Vorno. Si gioca sul campo del Villa Basilica, gara unica con eventuali supplementari in caso di parità. Qualora ci fosse parità anche al 120esimo minuto, passerebbe il turno il Vorno, che gioca in trasferta. Grande avvio stagionale, siamo al ciclismo per il Gragnano Sporting Club Gesam del presidente Carlo Palandri, che si è giudicato appunto il Gesam, la 28esima Firenze-Empoli, grazie allo spunto di Thomas Pinaglia. Il 25enne di Monte Carlo, ben pilotato dai compagni di squadra, ha regolato allo sprint Andrea Toniatti e Simone Bernardini. Tempo del vincitore, 3 ore 21 minuti e 15 secondi, alla media di 40 e 200. È da tempo in moto la macchina organizzativa del 19esimo premio fedeltà allo sport. La manifestazione si svolgerà all'Hotel Country Club di Gragnano lunedì 4 maggio. La Sfinge d'Oro, possiamo già anticiparvi alcuni nomi importanti, andrà a personaggi dello spicco, in particolare per il ciclismo al commissario tecnico Davide Cassani e all'ex campione del mondo Maurizio Fondris. Sarà premiato anche Nanu Galderisi, allenatore della Lucchese, e tra gli ospiti d'onore, già premiato in passato con la Sfinge d'Oro, lo vediamo, anche il direttore generale della Lucchese, Giovanni Galli. Prima importante uscita della pugilistica lucchese, che nonostante le mille vicissitudini, è riuscita comunque a portare a termine la preparazione dei suoi pugili. A Firenze, la pugilistica ha partecipato alla seconda edizione del torneo regionale Nepi. I ragazzi di Monserlesan si sono ben comportati, nette le vittorie di Edison e Florian Isenlari, sconfitta per Joel Santos, così come per i debuttanti di Die Belluomini e Daniel Karjai. Siamo all'Atletica, andiamo dunque al commento, torniamo sui campionati italiani invernali di Lanci, che si sono svolti al campo Moreno Martini di Lucca. I campionati invernali di Lanci non deludono le attese. Due giorni di gare intense, di buon livello tecnico, perfettamente organizzate dalla Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, seppur la società del presidente Montinari fosse alle prese con altri problemi extra-tecnici. Il miglior risultato, intendiamo come piazzamento, l'ha ottenuto Michaela Mariani nel martello femminile. L'allieva di Nicola Vizzoni, che qui a Lucca si è limitato a fare da illustre spettatore, ha guidato a lungo la gara prima di cedere la fortissima Silvia Salis. Un argento che tuttavia conferma a Michaela tra le migliori interpreti della specialità a livello nazionale. Solo bronzo, ma con un'eccellente prestazione tecnica per il giovane Edoardo Bertolli della Virtus Lucca nel disco giovanile. Il giovane Colosso di Varga ha sorpreso tutti con un 50-11 che ne conferma appieno le notevoli potenzialità. Il podio lo ripaga e gli offre nuovi enormi stimoli per scalare posizioni nel ranking italiano, considerando che parliamo di un ragazzo ancora molto giovane. Solo quinto posto, ma inconfortante progresso nel giavellotto per Giacomo Puccini, che forse era il più atteso di tutti. Dopo un paio di timidi lanci, Giacomo ha trovato nuova convinzione con un 68 abbondante, che è anche il primato stagionale, ma che soprattutto gli ha fatto capire di essere sulla buona strada. Toccherà anche a Claudia Koslovic, la sua allenatrice, dargli giusti stimoli affinché possa tornare sui suoi migliori livelli. Ma ci vorrà del tempo, dopo due anni, di inattività forzata. Annotazione finale sullo splendido, ma fragile, Marcel Jacobs-Damont, l'ital americano della Virtus, si è esaltato a Padova battendo il muro degli 8 metri, con un 8-0-3 che, ripetuto in finale, gli sarebbe valso il titolo tricolore assoluto. Per la cronaca, la gara è stata vinta con un modesto 7-72. Marcel ha preferito rinunciare alla finale per un lieve risentimento muscolare. Ecco, se fisicamente starà bene e non avrà problemi, questo ragazzo presciano può davvero stupire. A Marina di Massa, quinta prova del Grand Prix Toscana a CSI di Corsa Campestre. Pochi gli atleti delle Alpi Apuane impegnati, tra questi il buon rientro di Davide Lampitelli, che si è classificato al settimo posto assoluto e quarto nella categoria fino a 35 anni. Bene anche Roberto Gianni, che si è piazzato invece al decimo posto assoluto ed è salito sul terzo gradino del podio nella categoria da 35 a 45 anni. Il tennis nazionale italiana under 16 femminile ha chiuso al terzo posto la Winter Cup in Repubblica Ceca superando la Francia nella finalina di consolazione. La nostra Tatiana Pieri è stata sicuramente tra le protagoniste e si è resa solo in semifinale alle fortissime russe. Non a caso la Russia poi ha vinto il titolo battendo nettamente in finale l'Inghilterra. Chiudiamo con il basket, quinto successo consecutivo per il Gladiatorius che ha battuto il Forte De Marmi 60 a 51 e ha tenuto il passo dei cugini del Capannori. Ora la squadra di coccia Alessandro Petrini può preparare nel migliore dei modi il big match interno contro il Bottegone. E con questo è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva di questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza e l'ultima parte del TG Noe. A tutti voi la più cordiale buonasera.